Nel 2014 è stata perpetrata una grave ingiustizia, ingiustificata dal governo, togliendo agli abitanti della provincia di Rovigo dei benefici del fondo istituito per chi ha nel proprio territorio la presenza di impianti di estrazione di idrocarburi o rigassificatori, come quello di Porto Viro. Sono stati tolti da questo beneficio senza giustificazioni e grazie all'azione della Lega Nord il Vice Ministro De Vincenti, in persona e ufficialmente alla Camera, ha ribadito la volontà del governo di reinserire gli abitanti della provincia di Rovigo fra i beneficiati di questo fondo alla prossima occasione. Sono passati più di un anno e mezzo, nel frattempo sono stati approvati due miei ordini del giorno che chiedevano sostanzialmente la stessa cosa. Lo stesso Vice Ministro, prima dell'approvazione della legge di stabilità l'anno scorso, la legge di stabilità del 2015, ha ribadito il suo impegno ufficialmente in tal senso. Oggi una mia interrogazione vuole fare chiarezza sulla questione e la risposta del governo è quanto di più disarmante e vergognoso avessi potuto immaginare. Cioè, semplicemente il governo, senza prendere una posizione ufficiale, dice che questo fondo non può essere allargato anche agli abitanti di Rovigo, del Polesine e quindi Veneti, perché altrimenti lo stesso fondo verrebbe diminuito di consistenza per tutte le altre regioni beneficiate, che sono nella fattispecie la Basilicata, che ha nel suo territorio degli impianti estrativi di petrolio e in piccola parte la Sicilia. Ecco, questa è una risposta non degna di un governo. Io mi sono dichiarato insoddisfatto e indignato. Non è degna di un paese civile, non è degna di uno Stato di diritto e non è degna soprattutto di un governo serio che non mantiene le sue parole.